Ciao ragazzi sono Roger Santino e oggi siamo qua il nuovo video per il canale e si ragazzi ok E questo video ci sarà un po' di tutto perché vi spiegherò cosa ho fatto questi giorni ultimi giorni E' successo un po' di tutto Allora intanto potete vedere che mi sono preso una nuova videocamera Se non mi seguite su Instagram andate a seguirmi qua Andate a seguirmi perché lì diciamo che faccio vedere tutto quello che faccio durante le giornate Allora mi consiglio di andare a vedere perché sono cose fighe Mi sono preso una nuova videocamera Finalmente adesso posso vedere quello che sto vloggando Perché c'è lì Dovete vedere il mio dito che sta indicando lo schermo E' figa questa videocamera Adesso potete vedere Devo guardare lì Adesso devo guardare Mi sono preso una nuova videocamera Adesso posso vedere che mi trolla quando trollo quando vloggo Ok Anche buona qualità E' full HD Non so se adesso quando editerò il video perché lo editerò con Phantasia Studio Non so se toglierà la qualità Mi sa che si Mi sa che si rindirizzerà HD e basta Ma spero se vedo che quando farsi un altro vlog L'editerò con Sony Vegas Perché anche Sony Vegas Così sarà in qualità buona Allora Allora Cos'è successo? Allora Puoi vedere Scusate Così tutto Allora Ho cazzizzato con Fabio e voi Intanto Così sempre quando ci troviamo Cazzeggiamo Puoi vedere Se vi asumo una parte Così 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo fatti male. Comunque spero che senta bene l'audio perché non ho collegato un microfono anche se si può collegare, si può collegare un microfono esterno. Io sto provando il microfono nella videocamera. È la prima volta che la provo allora avete pazienza se non va tutto bene. È figo perché posso fare il zoom figlio. Allora, seconda cosa, il studio più mi ha invitato a me in un evento, sì a me. No, non è vero, ma sì, mi ha invitato perché sapete che loro fanno una volta di festa. Allora io seguo il studio più su Instagram, allora vi consiglio andate a seguirlo su Instagram. E mi hanno invitato a me in un evento quando mi hanno invitato sul palco. È stato figo. Figo ma in balanza insieme. Ma è figo stesso. Buon giorno in casa mia con me. Guarda lì dei brutti gesti che così non potrà farlo vedere a nessuno questo video. Attenzione di quanto crede che vuole fare un video. Vai, vai, le nuove come siete. Fate più solito di me. Tutto su tutto, voi con me. La voce, tutti. Zero, solo, con lo suono e metto un evento. Un asco, un asco. Un asco, un asco. Un asco, un asco, un asco. Perché c'è lo schermo, ragazzi. Che colpa di questa lampada qua c'è poca illuminazione. Ah, ok. Allora forse è meglio spegnerla. Perché vedete che questa videocamera qua. Diciamo che il sistema... Se c'è poca luce prendete lui la luce. Allora mi sa che farò meno di questa luce qua. Che mi fa il secolo di me a parte. Così almeno mi vedi tutta la faccia. Dopo siamo andati a Venezia. Poi adesso vedete solo un clip di un video che ho fatto in argentino. Ma farò anche in italiano. Ok, potete aver visto sono andato a Venezia. Ho fatto anche un video in argentino. Allora così non dovete mettete like anche se non capite. Fate così imparate. Adesso la prima parte migliore che mi sa che siete aperte per questo video per questa cosa qua. Per il titolo. Ragazzi sono caduto di skateboard. So già che alcuni ho messo questa storia su... Avete presente che si possono mettere storia anche su WhatsApp? Vale l'ho messo e tutti i mali, anche tutto il mondo mi hanno chiesto che è successo. Allora. Alcuni ho detto la verità. Altri ho detto che ho fatto facendo parkour. Altri ho detto che sono caduto nel cielo. Ma a quello lì ovvio che no. E con le persone che ho detto che sono caduto nel cielo e dopo non mi ero più iscritto. Cattiva persona insieme. E beh, in realtà sono caduto nel skateboard. Non ho fatto parkour, anche se faccio parkour a volte. Ma non sono... Non è perché mi sono fatto parkour. Sono caduto nel skateboard, potete vedere. Verso alcune foto qua, quando sono caduto. Mi sono fatto male. Molto male. Tipo, potete vedere qua, non so se... Non so se vedete, ho ancora le botte. Guardate, non so se mi sono fatto botte. No, no, vabbè. Nel culo. Vedete se lo ho fatto, mi sono fatto male nel culo. Mi sta facendo ancora male. Non c'è ancora la botta lì. Diciamo che mi fa ancora male. Allora faccio fatica a sedermi. Allora è molto probabile che quando vedrete, quando vorrete alcuni vlog informativi, staranno in piedi perché sì. Vi lascio il video perché, come no, abbiamo fatto anche il video io, Fabi Boy perché... Tutto quanto facciamo con Fabi Boy, non so perché. Allora vi faccio un video con Soldato 2, che... Oh my God. Allora! 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 Si ha caido! Si ha caido mi niño! Si ha caido! Si ha caido! Si ha caido! Si ha caido! Ok, è una cosa stupida perché vuoi che fanno skateboard o no? Ma va bene! Capita! Capita che fanno skateboard! Ok! Dopo, dopo si ame con Fabi Boy Tutto con Fabi Boy, io ti dico si ame Fabi Boy Siamo andati a Verona per fare un giro perché quando non c'è niente da cazzo da fare vai a Verona Abbiamo fatto Florislava Verona Adesso vi lascerò con il clip Voi ha registrato anche con il suo telefono perché vedete in una clip che ha registrato con il suo telefono ma lui è su Instagram Allora vi lascerò il suo Instagram da qualche parte qui Non so se lui vuole che la si qua maggiore se lo stesso venga un cazzo Sando a seguirlo Allora vi lascerò il clip dai Psss Slava che tal? Slava? Mi cava la p***a! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Ok, dopo ultimo aggiornamento che sono sempre a Verona siamo andati a vedere la Romeo Giulietta mi avete presente Beh come no mancava la mia solita cazzo io tocca la tetta Giulietta mi ha fatto Giulietta io ho fatto la mia scientifica faccia pervertita e vi lascio la clip così ho fatto la mia la mia mi ha fatto la mia mi ha fatto la mia mi ha fatto la mia ok niente questo qua quello che mi preoccupa a me di questa videocamera è che la batteria dura poco ma sto vedendo che vero un sacco fortunatamente forse fa un altro vlog e basta soltanto questo qua è successo questa settimana questi ultimi giorni diciamo quindi niente ragazzi diciamo che sono felice perché a parte che la nuova videocamera che è da un sacco che l'aspettavo e niente sono felice perché adesso tipo mi sto accorgendo che anche se siamo 196 iscritti se non sbaglio vi ringrazio il cuore vi ringrazio le persone che adesso mi metterò un po' sentimentalista ma vabbè vi ringrazio il cuore le persone che tu che stai ogni volta a guardare i miei video so già che io quando ho iniziato su youtube forse fare un altro video parlando su quello ma quando io ho iniziato su youtube è perché il mio scopo era far felice la gente perché diciamo che io ho iniziato youtube su un periodo che non ero tanto tanto diciamo tanto felice non ero perché mio fratello è andato in Argentina allora diciamo che è andato da parte mia via perché io e mio fratello ci portiamo benissimo ecco siamo attaccati c'è un legame forte dopo beh è successo anche altre cose della mia vita privata non posso dirlo e allora non era un periodo molto felice ma io ci sono state anche cose brutte che ho fatto se volete sapere queste cose qua mettete like il video voglio arrivare non so mettiamo 10 like 10 like 10 like mi sembrava buono e vi racconterò la mia vita come è andata la mia vita prima di essere youtuber beh io iniziato su youtube perché volevo far felice la gente perché io guardavo video di altri youtuber al tempo mi facevano felice e loro ho detto queste cose stanno facendo una cosa buona allora se io iniziato su youtube io da piccolo facevo facevo ridere a gente diciamo che se non so se è un mio compagno vecchio che mi guarda qua alle medie facevo facevo ridere un sacco se c'è un mio amico che è un mio vecchio compagno che sta guardando questo video che scrive qua nei commenti che gliele conferma e niente allora ho fatto su youtube per farvi ridere e vedo che tipo 100 iscritti ho già fatto speciali tutto quanto a me i giorni di oggi non continuo a credere che sono ancora ai 190 sono già arrivato ai 200 ma possono se insomma capita tipo ma sono fermo lì allora vedo che quella gente lì vi piace tanto i miei video e rimane lì ogni giorno a vedere perché vedo che ci sono anche tanti like nel video non so è una cosa figa che io vi ringrazio di cuore e non lo so è un'emozione che tipo è da qua dentro che non lo so non so come spiegarla ma mi ringrazio il cuore ogni volta che che guardo i miei scritti anche se sono fermi lì anche se potremmo che se ne ma secondo me sono già tanti quelli che ho vi ringrazio perché so che c'è qualcuno dall'altra parte dello schermo che mi sta guardando quello lì mi fa felice a me e alcune persone mi dicono che guardando i miei video diventano felici allora lì mi divento proprio felice a me che ho fatto il mio scopo di far felice la gente che è triste e niente voglio soltanto dire questo qua basta di essere basta raccontare tutto quanto e non ci mettiamo a piangere qua e ci vediamo al prossimo video allora bye bye